Anche Songavazzo, piccolo comune dell'Alta Valseriana, che conta circa 700 abitanti, andrà alle urne il prossimo 6 giugno per eleggere la nuova amministrazione comunale. Ideale comune è una delle due liste in corsa e propone come candidato sindaco Giuliano Covelli. Classe 1967 partecipe della vita amministrativa songavazzese da parecchi anni e siede attualmente nei banchi dell'opposizione. Dei ragazzi hanno osservato l'evoluzione di questo paese negli ultimi 5 anni e hanno contattato una serie di persone, quindi si è costituito un gruppo in maniera totalmente autonoma, totalmente basilare e poi coinvolgendo anche me hanno convenuto che in questa fase quinquennale fossi io il miglior concentratore delle loro idee. Alla presentazione ufficiale della lista Covelli ha elencato dettagliatamente le priorità necessarie per il buon governo di Songavazzo. Vogliamo ridare dignità politica e amministrativa a Songavazzo. Vuol dire recuperare i rapporti con le istituzioni, recuperare i rapporti con gli enti sovraccomunali, andare a cercare i fondi dove c'è bisogno, costruire dei progetti. Quindi noi vogliamo appunto continuare l'attività che si è persa e dare una svolta nuova a questo paese che ne ha maledettamente bisogno. Nel sociale noi abbiamo delle idee molto chiare, quindi stare vicino ai nostri anziani e alle persone bisognose attraverso la riduzione dei compensi del Sindaco e della Giunta, dagli attuali 25.000 euro passare a 15.000 euro per il lavoro svolto dagli assessori e dal Sindaco, ci crea un budget disponibile di 10.000 euro che noi intenderemo spendere non per dare dei bonus a chi che sia, bensì per costruire dei progetti specifici mirati al miglioramento delle condizioni delle persone che in questo momento hanno bisogno.